sarà un ultimo weekend di gennaio caratterizzato dall'alta pressione quindi poco cambia tuttavia seppur in un contesto di stabilità atmosferica si faranno sentire delle correnti più fresche più fredde in arrivo proprio dai dai balcani quindi l'atmosfera sarà stabile o variabile sia sabato che domenica cielo sereno poco nuvoloso qualche nuvola in più potrà transitare durante l'arco delle giornate soprattutto sui versanti orientali del territorio regionale la ventilazione inizierà a soffiare da est nord est sarà debole sui settori interni ed occidentali della regione si farà sentire questa ventilazione maggiormente sulla costa e poi soprattutto sul mare tant'è che il mare durante il corso di questo weekend è destinato a divenire anche mosso venti da est da nord est e di conseguenza una diminuzione delle temperature relativa e debole nella giornata di sabato questa diminuzione sarà più marcata poi nella giornata domenicale ma comunque ripeto il contesto sarà sempre quello della 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 stabilità o più variabilità atmosferica proprio perché saremo ancora interessati dall'alta pressione